Un lago è dell'acqua ferma. Non è male qui. A me non piace. Il mare, invece, il mare è in movimento. Le onde si muovono fino a quando non raggiungono la riva. Fuori c'è il sole. Non trova sia bello? C'è il sole importante. Un fiume. Anche i fiumi si muovono. Alcuni scorrono molto velocemente. Ma ci sono anche le cascate. Anche i fiumi si muovono. Grazie a tutti.